Ciao a tutti e bentornati! Allora, ieri ci siamo lasciati con l'anticipazione di trattare l'aggiornamento peso di Senz'Anima ed esattamente da questo partiamo. Che dite, non vi va? Bene, il video parte con un ironico botta e risposta tra Francesca e la sua bilancia, la quale all'ultima pesata segnava ben 188 kg. Quindi è tempo di rimboccare le maniche e darsi da fare. Bene, la prima cosa che fa adesso è controllare il peso attuale che pare si aggiri intorno ai 187 kg. Questo vuol dire che dall'ultima pesata non ci sono stati ulteriori aumenti di peso. Benissimo, fatto questo si passa a rispondere a chi le consiglia di visitare in lungo e in largo Roma. Operazione che ad oggi risulta essere molto faticosa per via del peso e soprattutto per i problemi che ha al ginocchio Francesca, per il quale dovrebbe poi anche subire un'operazione. Ed in barbacchi la critica, lei ora vuole solo godersi la sua nuova casa e iniziare uno stile di vita meno sedentario. Beh, che dire, è sicuramente un ottimo proposito e noi cambiamo personaggio perché andiamo a parlare di rispidi, risparmio in cucina, la quale nel corso della sua amicizia con la dama nera le ha spedito diversi pacchi, anche abbastanza consistenti, aiuti di cui la dama nega la ricezione. E non solo nega ad aver ricevuto tali pacchi, ma ha ben presente che si trattava di prodotti scaduti, infangando così un rispettabilissimo sito che si chiama Spesa mica? No. Spesa simpatica? Neanche. Spesa sicura? Cazzo. Una faccenda piccantissima di cui oggi abbiamo un importante aggiornamento perché Rispi, risentita da tali accuse, ha contattato il sito in questione ed ha raccontato delle accuse mosse. L'assistenza del sito ha risposto, ma un ordine fatto tre anni fa solo oggi si sono ricordati che non hanno ricevuto nulla? Possiamo confermare che non ci hanno mai reso nulla indietro, quindi per noi i colli sono stati consegnati. Tutti. Ci dispiace. We're very sorry. Per la serie, tapigli in quel posto. Poi per chi se lo chiedesse, per questa risposta è stato dato il consenso di pubblicazione, pertanto possiamo ritenere il caso chiuso. E con la dama che si è guadagnata un'altra figuraccia, ma tanto una in più, una in meno, cosa cambia? E dato che ci siamo, vi regalo un piccolo aggiornamento su cosa? Sulla raccolta fondi della storianese. Siamo a quota 50 euro a fronte dei mille richiesti e sempre accompagnati da frasi ironiche. Dice tipo che? Tipo il cammello è un ruminante che beve molto raramente. Sarà giusto questo e sarà bello, ma chi vorrebbe nella vita fare la parte del cammello? Beh, sì, diciamolo. Lo scrivano misterioso sta perdendo smalto. Bene, adesso parcheggiamo la dama ed occupiamoci di chi? Di Davide. Dice, ma Davide chi? Beh, è quello che è abituato a non chiedere mai, anche perché se chiede manco gliela danno, quindi tanto vale. Torniamo a Bomba Davide che qualche giorno fa annullava, annullava, sarà mica annunciava? Sì, di stare male addirittura con attacchi di ansia. State framendo per sapere cosa è successo? Lo so benissimo perché vi conosco e quindi andiamo subito al vlog in questione che parte con lui fuori dal barbiere. Ha già sistemato le sopracciglia e a breve rinfrescherà anche il taglio di capelli. Prossima tappa, fare il reso di una coppia di cuscini. Perché? Perché hanno un forte odore chimico. Davide è fin da subito infastidito dalla folla. Difatti, poco dopo, il vlog riprende dal parcheggio. Ma, siccome il fiorellino milanese non accennava ad uscire, lui torna dentro a cercarla. Poi, una volta a casa, nella comodità delle mura domestiche, soprattutto della morbidezza del divano, cosa fa? Ci spiega che, a causa della folla, ha avuto tipo un attacco di ansia. Che sua moglie gli ha tenuto la mano e gli ha detto «Non ti preoccupare, ci sono io, usciremo di qui insieme». Ma lui, da vero uomo alfa, si è imposto. Ha detto «No, io esco fuori e tu vai a fare le tue spese da Primark». Il tutto poi si è risolto fumando una sigaretta e noi passiamo a quello che è il prossimo personaggio. Parliamo di Cassandra, che sta facendo man bassa di visual e rispolverà nell'ultima live la questione dell'affaire raccolta fondi di Senz'Anima, per la quale attacca Baraya, che ritiene truffato da Senz'Anima, che in realtà non aveva tutto questo bisogno di soldi, dato che guadagna bene con YouTube. Però, onestamente, non è che mi vada più di tanto di riprendere questa storia, pure perché i soldi della raccolta fondi sono stati pure tutti spesi. Quindi vi racconto di Dama Bianca, che nelle sue ultime stories ha pubblicato diversi annunci di lavoro, e dove? Nella zona di Soriano City. Ci sono offerte di lavoro per cameriera di sala, traslocatore, montatore di mobili, facchino. Beh, contrariamente a quello che dice la dama, ci sono un bel po' di opportunità. Beh, a dirla tutta, non avevamo dubbi in merito. Restando nel discorso sorianese, abbiamo un aggiornamento in merito. Allora, la dama, assente ieri tutto il giorno, torna in serata con delle novità da condividere con la sua utenza. E parte con un video dove spiega il cyberstalking, dove praticamente non fa altro che descrivere quella che è stata la sua attività su YouTube negli ultimi cinque anni. Dopo questo, propone un altro brevissimo video dove mostra una denuncia con tanto dei suoi dati ben in vista. E la sua privacy muta. Dopodiché, allunga il discorso con una live dove spiega ad aver sporto denuncia contro Piero e menzionato ben tre canali. Perché? Perché l'appoggiano. E i post di Piero le creano tanta ansia. Ansia che poi non le permette di vivere serenamente e soprattutto le impediscono di svolgere la sua attività di opinionista su YouTube. Dopotutto, i suoi video sono contenuti nei quali lei commenta personaggi e fatti pubblici, il che è nel suo pieno diritto. Invece Piero e gli altri canali che lo appoggiano le impediscono di svolgere questa innocua attività e soprattutto di guadagnarci. Pertanto, la denuncia era d'obbligo. Altro comunicato importante è che la sua raccolta fondi da pubblica diventa privata. Nel senso che chi vuole donare lo farà contattandola tramite la sua email e si concorderà con lei per la modalità di pagamento. Bene, detto questo, esercito il mio diritto di critica e di espressione dicendo che un video sul cyber-stalking promosso dalla dama appare davvero fuori luogo data la sua attività su YouTube, soprattutto nei confronti di Chiara ad Alessandro e la sua famiglia. Senza dimenticare l'accanimento che ha avuto nei confronti di Senz'Anima proprio in quest'ultimo periodo, dove è riuscita ad inventarsi che la madre di Senz'Anima che tra l'altro è deceduta avesse una relazione con il proprietario dell'appartamento in cui abitavano il quale per questo motivo le faceva delle agevolazioni sull'affitto. Però mi rendo conto che ci siano tanti utenti nuovi che molte cose non le sanno e quindi la vedono come una vittima. Ed in questo senso ci viene incontro la dama bianca che ha proposto nel suo canale una mini raccolta di parte di tutte quelle che sono state le minacce fatte dalla dama nera nei confronti di diverse persone soprattutto di Chiara D'Alessandro. Io vi consiglio e vi esorto ad andare a ascoltare quel brevissimo video e poi valutate se la dama è nella posizione di poter promuovere dei video contro il cyber stalking. Come sempre io vi aspetto sotto nei commenti e nel frattempo vi auguro buona continuazione di giornata vi invito a seguire quello che sarà il mio prossimo contenuto e nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da Gossip. Grazie. Grazie. Grazie.